Tra le fonti del diritto bisogna esaminare anche gli statuti. Lo statuto però non è previsto nell'indicazione delle fonti dell'articolo 1 delle disposizioni sulla legge in generale. Come mai? Queste disposizioni sono state elaborate negli anni 1930-1941, pubblicate poi nel 1942, e rispecchiano le concezioni politiche e ideologiche dell'epoca, secondo le quali il diritto era espressione dello Stato e doveva essere riconosciuto dallo Stato. Gli statuti invece erano, e sono espressione di libertà e di autonomia, e quindi contrastavano con queste concezioni. Bisogna però aggiungere che il silenzio delle disposizioni sulla legge in generale, anche se esprimeva una valutazione negativa, non aveva fatto scomparire gli statuti dal mondo del diritto. Questi, a somiglianza delle acque dei fiumi del Carso, che a un certo punto seguono un percorso in profondità e ritornano in un momento successivo alla superficie, sono rimasti quasi nascosti per secolo, limitati agli statuti delle università, delle istituzioni di assistenza e beneficenza, e poi sono tornati, come le acque del Carso, in superficie giuridica in epoca successiva alla Seconda Guerra Mondiale. Fermiamo l'attenzione sul concetto di statuto. Lo statuto, nella parola stessa, indica qualcosa che sta, destinata a durare, ed è una norma giuridica che disciplina l'organizzazione e l'attività di un ente, pubblico o privato. Lo statuto, quindi, nonostante il silenzio dell'articolo 1 delle disposizioni sulla legge in generale, è fonte di diritto, è norma autonoma, creata dagli organi dello stesso ente, e il suo contenuto è soggetto ai limiti stabiliti dalle norme legislative. Fermiamo ancora l'attenzione sullo statuto. L'origine degli statuti è antica e bisogna andare indietro di 800-900 anni. Siamo negli anni 1100-1200 dopo Cristo e dopo la caduta dei sistemi politici centrali di allora. Pensiamo al safro romano impero di Carlo Magno. C'è stata anche a causa di varie pestilenze, carestie, eccetera, una enorme crisi economica che si è cominciata a superare soltanto negli anni 1100-1200. Le organizzazioni che vi erano allora raccolte presso le comunità locali, cioè i comuni, hanno disciplinato la loro struttura e attività e si sono dati delle regole, degli statuti, cioè delle regole proprie, regole costituite, statuite. Queste regole statutarie, per la maggior parte, sono regole autonome, cioè sono espressioni della potestà statutaria autonoma di determinati enti o associazioni. Ma la materia è complessa, perché vi sono altre ipotesi in cui lo statuto è dato e imposto dall'esterno ad un ente, anche per garantirne certi aspetti di autonomia. E questo è il caso degli statuti speciali di alcune regioni, che sono stati giustificati da ragioni politiche. Allora iniziamo questo breve esame per un inquadramento sistematico da questi statuti speciali. Gli statuti speciali sono sorti dopo la Seconda Guerra Mondiale e dove si è verificato questo fatto un po' singolare, che dopo l'unità d'Italia del 1861, a seguito della sventurata Seconda Guerra Mondiale, cinque regioni collocate ai confini nazionali, quindi Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Sud Tirolo, Friuli, Venezia Giulia, hanno manifestato delle posizioni fortemente polemiche nei confronti dell'apparato centrale dello Stato. Queste ragioni hanno sostenuto, e in parte avevano ragione, che erano state abbandonate, dimenticate e sfruttate, fin dagli anni successivi all'unificazione del 1861, e specialmente, nonostante le belle parole, durante il periodo fascista. Queste polemiche innestarono delle tendenze centrifughe di smembramento dell'unità, e per alcune di queste regioni questa tendenza centrifuga si è manifestata nel cosiddetto separatismo, cioè nella secessione dallo Stato nazionale. Allora, per ovviare a questa tensione politica e amministrativa, da un lato si è affermato con la Costituzione, articolo 5, l'unità e la indivisibilità della Repubblica. Dall'altro lato si è attribuito a queste regioni, che volevano separarsi, che volevano comunque sganciarsi dall'unità, delle forme e condizioni speciali di autonomia. Questo è avvenuto mediante degli statuti speciali adottati con legge costituzionale. Perché questi statuti sono chiamati speciali? Per due ragioni. La prima, perché sono delle leggi costituzionali, e sono leggi costituzionali che contengono regole speciali, derogatorie rispetto alle regole generali stabilite nella Costituzione. E questi statuti speciali attribuiscono, alle regioni che ho indicato, un'ampia potestà normativa e amministrativa. In secondo luogo, perché anche se attribuiscono a certe regioni forme e condizioni particolari di autonomia, specie legislativa, in realtà non sono statuti autonomi, cioè deliberati dagli stessi organi delle singole regioni. Essi sono stati deliberati dal Parlamento nazionale e poi dati attribuiti, quasi imposti, a queste regioni. Questo procedimento legislativo è stato determinato da regioni politiche, che ho già detto ma che conviene qui ripetere, per coniugare l'unità nazionale con le condizioni speciali e con le richieste di autonomia. In questo modo, questi statuti speciali sono stati elevati a livello di legge costituzionale e ciò ha costituito una garanzia anche per queste regioni, perché per poter modificare questi statuti è indispensabile il procedimento di revisione costituzionale, che è volutamente complesso e articolato in una doppia deliberazione a intervallo di un certo periodo di tempo, eccetera. Questa è la ragione politica, perché ha determinato risorgere degli statuti speciali delle regioni, delle cinque regioni che ho indicato, ma abbiamo anche gli statuti ordinari delle regioni e questi si riferiscono alle 15 regioni italiane. La Costituzione, articolo 123, prevede che ogni regione ha uno statuto. Il verbo all'indicativo A significa deve avere uno statuto e in questo caso si tratta di statuti autonomi deliberati dai rispettivi consigli regionali, con un procedimento che ricorda quello della Costituzione, della modificazione della Costituzione o di una legge costituzionale. Quindi il Consiglio regionale approva, potrà modificare lo statuto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due successive deliberazioni adottate a intervallo non minore di due mesi, tempo che deve servire come pausa di riflessione. Il governo, se ritiene che questo statuto contenga delle illegittimità, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale. Lo statuto può essere sottoposto a referendum popolare, se ne fanno richiesto un determinato numero di elettori o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. Insomma, comunque questo statuto è la regola costituzionale, la regola organizzatoria di 15 regioni italiane e lo statuto di ogni regione deve essere in armonia con la Costituzione. La cosa interessante è che questi statuti non sono uno uguale all'altro, presentano delle differenze, perché lo statuto, pur essendo in armonia con la Costituzione, può stabilire e modellare in modo autonomo il sistema di governo, che è quindi diverso da ragione a ragione. Non solo, ma lo statuto di queste regioni a statuto ordinario, può stabilire in modo differenziato i principi della organizzazione e il funzionamento dell'amministrazione di ogni regione. Aggiungo ancora che lo statuto può regolare l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum, non solo su leggi, ma anche su provvedimenti amministrativi della regione. Non che è la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali, ma in sintesi, lo statuto delle regioni a statuto ordinario è come la piccola Costituzione di ogni regione. Ogni regione può darsi quindi la propria struttura, secondo un autonomo disegno organizzativo e può svolgere in modo autonomo la potestà legislativa ed amministrativa. L'obiettivo di questo statuto, che poteva modellare e organizzare in modo diverso le varie regioni, l'obiettivo è molto alto, perché consentiva una modulazione tra le varie regioni ai fini di una maggiore efficienza. Ci si domanda, è stata realizzata questa maggiore efficienza, specie dal punto di vista legislativo ed amministrativo? È un grosso interrogativo. La risposta che si ritiene di dare è che ciò non è sempre avvenuto, però i vari casi devono essere stabiliti, esaminando poi le singole ipotesi.